Ho iniziato Krav Maga. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco Delia e oggi vi voglio parlare di una nuova disciplina che ho iniziato nel mio percorso di crescita personale che è il Krav Maga. L'ho scoperto per colpa di mio fratello, ho fatto MMA per un anno e dopo aver finito MMA quest'estate, diciamo che ho preso la cintura gialla di MMA, di Marziali Miste, come vi ho fatto vedere già in un altro video, a un certo punto mio fratello è venuto e mi ha detto Marco adesso che hai la pausa di un mese, un mese e mezzo di MMA hai pensato di provare qualcos'altro e di continuare quello? Io gli ho detto, pensavo di continuare quello appena settembre rinizia tutto voglio riniziare MMA, insomma mi è piaciuto, ho imparato un sacco, sono diventato cintura gialla e invece mi ha detto perché guarda io seguo questo signore Manuel Spadaccini che è uno youtuber, un influencer di Krav Maga in cui ho proprio fondato questa accademia, si chiama Krav Maga Academy KMA in Italia con varie palestre in tutta Italia, istruttori, è proprio un corso in cui insegna anche a poliziotti, insegna anche a militari o a civili fa video e ha aperto questa palestra affiliata anche a Peschiera che è dove abito io o comunque a 5 minuti da casa mia e ho detto, cavoli, beh, quanto costa? si può provare? almeno vado a provare, vediamo com'è c'era una lezione di prova gratuita ho aspettato di iniziare MMA per vedere com'era questo corso ho fatto una lezione di prova, mi è piaciuto molto e allora ho detto, ma sì dai tanto a me non interessa farlo a livello sportivo MMA mi interessava più che altro imparare un po' di difesa per avere più sicurezza nella vita di tutti i giorni a livello di crescita personale anche per avere un po' più di sicurezza a livello di mindset perché essere sicuri dal punto di vista fisico che qualsiasi cosa succede sai comunque almeno hai una percentuale più alta di sopravvivenza di sapere come comportarsi qualsiasi cosa succede comunque ti dà più sicurezza con gli altri più sicurezza nelle interazioni con tutti e un sacco di altri benefici e in più anche un buon allenamento perché comunque finisce l'allenamento che sei distrutto ma che cos'è il Krav Maga? allora qua su Google dice Krav Maga il Krav Maga è un'arte marziale di origine israeliana sviluppata originariamente per contrastare le aggressioni antisemite negli anni 60 e poi successivamente adottato dalle forze di difesa israeliane e le forze di sicurezza israeliane negli anni 60 praticamente quanto hanno insegnato a noi è semplicemente una difesa personale, professionale la stessa che insegnano o comunque che insegnano a forze armate quindi militari e anche a poliziotti in base alla categoria ci sono varie tecniche, varie cose ma quelle che insegnano ai civili quindi che fanno i corsi come a me come quello che faccio io sono semplicemente un po' meno complesse un po' meno aggressive e ovviamente devono rientrare anche nel legale quindi è difesa, non è attacco, non è uno sport è diverso dall'MMA perché l'MMA è arti marzialiniste quindi ho imparato la kickboxing ho imparato un po' di jiu-jitsu, di lotta greco-romana però quello è basato su uno sport e su punti e sul vincere sul ring ma qualcosa di veramente pratico per imparare a combattere o sapersi difendere anche a livello legale o anche a livello mentale perché ricordate che la psicologia è qualcosa di molto importante quando succede qualcosa nella vita di tutti i giorni è qualcosa che il Krav Maga insegna ed è molto 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 importante quindi perché Krav Maga? quali sono i benefici? allora partendo dal presupposto che io ho fatto quindi non parto da zero ho fatto 12 anni, 13 di nuoto a livello agonistico per poi fare palestra poi per un bel periodo fare corpo libero poi ripartire con la palestra e quindi pesi e dopo pesi ho iniziato a fare questo percorso di MMA per un anno, un anno e mezzo kickboxing MMA ho preso cintura gialla e adesso faccio questo quindi diciamo che non parto da zero so già comunque come muovermi so come difendermi ho un corpo prestante ho un corpo allenato quindi diciamo che non parto assolutamente da zero perché ho scelto Krav Maga? innanzitutto perché mi piace provare qualsiasi cosa quindi vedo com'è e in più a Milano che è dove voglio trasferirmi a breve termine voglio andare a Milano adesso per lavoro per quindi tra poco spostarmi e quando fai un abbonamento con questa accademia quella italiana con Manuel iscrivi in una palestra e dopo è l'abbonamento che comunque vale per qualsiasi palestra in Italia c'è anche a Milano quindi se posso permettermi di farla qui la farò quindi se un giorno decidi di trasferirmi ho fatto l'abbonamento qua mese per mese poi posso comunque andare là e continuare là da dove senza dover ripartire o fare qualcosa di diverso quindi è molto molto bello l'allenamento dipende veramente dall'istruttore dipende veramente da da quanta gente si è dipende da tante cose ma come più o meno qualsiasi arte marziale parte comunque con un riscaldamento quindi alzare il battito cardiaco fare un po' di movimento rafforzare anche il proprio corpo quindi facciamo del tabata oppure del kickboxing quindi movimenti comunque che rinforzano il corpo quindi anche addominali un po' di piegamenti un po' di heat qualcosa ad alta intensità per poi iniziare subito con le tecniche perché è importante? beh innanzitutto perché le tecniche che insegnano sono cose che sono studiate apposta per essere comunque difesa personale ma non cose tipo stravaganti o cose strane per essere magari non belle ma il più efficienti possibile quindi sono studiate vedendo anche come si comportano le persone gli aggressori nella vita di tutti i giorni e studiate per evitare e difendersi da quel tipo di aggressioni lì quindi ad esempio il classico bullo da giostre oppure una rapina oppure qualcuno che vi offende in macchina per qualsiasi cosa una tecnica giusta che si può adottare per tutto quindi c'è del contatto fisico pugni calci non ci sono perché non è un attacco è più che altro difesa si impara comunque a tirare pugni calci però la maggior parte delle cose sono colpi nei genitali dare fastidio immobilizzare per lasciare altre persone scappare sapersi difendere se qualcuno è armato quindi se è un coltello una pistola oppure una bottiglia se siete al bar sapersi difendere da uno strangolamento sapersi difendere da pugni calci sapersi difendere da uno spintone se si è attaccati al muro oppure anche immobilizzare una persona così da lasciare altre persone scappare se si è con la famiglia se si è in una rapina è comunque studiata per essere qualcosa di utile per cose di tutti i giorni anche ad esempio la parte psicologica è super importante ti insegnano proprio a reagire nel momento in cui hai tanta adrenalina in corpo quindi ad esempio ci sono momenti in cui si mette sotto stress quindi si fanno non so tanti piegamenti tanti esercizi e poi tante persone contemporaneamente a caso tu magari con gli occhi chiusi o bendato arrivano e ti aggrediscono e quindi impari a fare quella tecnica semplice per poi farla diventare sempre più complessa nel tempo in ogni minima situazione ogni piccolo cioè non è qualcosa che si impara a memoria e poi bisogna pensare si fa talmente tante volte in tante situazioni e si perfeziona in tanti momenti diversi cose diverse in piccoli aspetti sfaccettature e anche in situazioni di stress che quindi veramente si impara a farle con memoria muscolare quindi qualcosa a cui non si deve pensare e l'ho notato e in effetti non ci credevo ma veramente adesso quando qualcuno si avvicina a me in un certo modo il mio riflesso già dopo un mese è subito fare questi questi movimenti qua e in più anche ad esempio a sfruttare l'ambiente circostante quindi qualcosa di veramente utile a tutti i giorni ah e anche ovviamente la parte legale quindi rientra anche cerca di far capire se si è ripresi col telefonino da videocamere il fatto che devi essere in difensiva quindi il motivo per il quale si può finire nei guai è a volte spesso che si reagisce più del dovuto e invece legalmente la difesa deve essere uguale all'attacco o più o meno dello stesso calibro quindi nel momento in cui c'è qualcuno che ti riprende o altro stare attenti e cercare comunque di far capire che sia sulla difensiva che non sei lì per dare guai come scappare eccetera eccetera quindi in realtà è molto molto utile e in più ragazzi ve l'ho detto tutta la parte prima dell'allenamento che dura circa un'ora e mezza un paio di volte a settimana è molto cioè si fa fatica quindi comunque io consumo circa con l'apple watch vedo circa mille chilocalorie attive ogni allenamento in un'ora e mezza che non è per niente male ogni tanto vengono anche istruttori da fuori a fare un po' di kick a fare un po' di arti marzialimiste che comunque è sempre utile per imparare a combattere c'è gente un po' di tutti i tipi quindi un po' qualsiasi età un po' anche sia maschi che femmine anche più piccoli più grandi quindi comunque c'è anche da provare e testare con corpi di diverse dimensioni di diverse età in più se qualcuno è comunque già allenato come me ci si divide in gruppi per fare cose diverse un po' più intense un po' meno intense ma comunque mi piace mi piace qualcosa che posso provare adesso vediamo come va vi farò un aggiornamento su come sta andando magari farò anche un giorno un video con Manuel Spadaccini su TikTok o su YouTube in caso lo pubblicherò ecco qua ragazzi spero che il video vi sia piaciuto se volete iscrivervi comunque vi metto in descrizione il sito di KPM se volete dargli un'occhiata non è affiliato né niente però comunque mi fa piacere ed ecco qua ragazzi se avete qualsiasi domanda fatemela e noi ci arriviamo al prossimo video ciao